Almeno otto persone sono morte dopo che un'imbarcazione anfibia per turisti si è ribaltata ed è affondata per le condizioni meteo avverse nel Missouri, Stati Uniti. La Duck Boat, tradizionalmente si tratta di autobus anfibi multifunzione costruiti appositamente o residuati bellici, trasportava 30 persone sul Table Rock Lake, una popolare attrazione turistica nei pressi di Branson. I sommozzatori stanno cercando altri dispersi secondo i media locali. L'imbarcazione si è capovolta dopo le 19 locali, le due in Italia. Sette passeggeri sono stati trasportati in ospedale. Lo sceriffo di Stone County, Doug Redder, ha dichiarato che uno dei suoi vice era a bordo e ha dato una mano a salvare alcuni passeggeri. I media locali parlano anche di bambini sulla barca.